Entra nel mondo l'olato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia e torna dunque il tempo stabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 marzo. Sul Veneto sarà decisamente più asciutto con qualche annuvolamento inizialmente ma con significativi spazi di sereno a seguire. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra gli 11 e i 16 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso, prevarrà comunque il sole ovunque. Sulla zona montana soffierà vento da nord moderato, bora anche sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove di fatto il tempo sarà soleggiato, vedete, con addensamenti più consistenti e lungo la cresta di confine saranno possibili anche dei rovesci nevosi. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Grazie. Grazie.